Ciao a tutti, io sono Fulmine ed io sono Filù della serie Il maneggio dei poni. Ed oggi e domani ci sfideremo io e Fulmine. Beh sì esatto, ora vi spieghiamo il perché. Allora, come avrete visto nella puntata 27, ovviamente chi l'ha vista, all'inizio del video, circa un minuto del video, si vedono i bambini che litigano, specialmente Lucrezia e Francesco, che litigano per vedere qual è il cavallo migliore tra noi due. Devo dire che hanno fatto una bella litigata all'inizio e questi geni hanno deciso di farci fare delle sfide di due giorni di seguito in cui noi siamo praticamente obbligati a farle. Allora, nel primo giorno, ovvero oggi, credo che faremo una gara di velocità, in cui dovremo superare tre tappe, cioè dovremo percorrere. E nel secondo giorno, cosa che ha scelto Lucrezia, dovremo fare tipo una gara di bellezza di cavalli, abbastanza imbarazzante. E comunque ora vi dirò le tre tappe di oggi. Allora, dobbiamo superare il boschetto, il laghetto e per finire il campo di cross. Ma ora vi dobbiamo lasciare, ci devono sellare, ci dobbiamo riscaldare e poi... La gara inizia! Buonasera a tutti, io sono il giudice Tommy, ed oggi sono felice di presentarvi due squadre che faranno due giorni di sfide. La squadra arancione di Filù e Lucrezia. E la squadra marrone di Francesco e Fulmine. Poi, voglio presentarvi il nostro arbitro a cavallo, Norman. E il nostro secondo arbitro, Adela. Ora siamo pronti per cominciare la gara! Prepararsi ai posti e... via! Wow, sono partiti veramente bene! Non è vero, Lily? Il boschetto! Prima tappa superata! Lucrezia è in testa! Fino ad ora tutto a posto ai concorrenti! Il laghetto! Seconda tappa superata! Campo da cross country! Ultima tappa superata! Ed ora si torna al maneggio! Lucrezia è ancora in testa al gruppo! Chi vincerà tra Francesco e Lucrezia? Metroberry! L Jewcellusia! Grazie a tutti! Al prossimo! L'assi che vuole di formidable! Tappa dispostura cava di più, owitzui è per quanto tanto di qualcosa. Doveo aspettare! Un pue dois sono倒amos! Abbiamo avvatoato il nostro nostro Buonasera! Opero Bankorta!